Testimonia all'impatto zero, questo è il titolo del progetto dedicato alle piccole e medie imprese, presentato qui alla Sana di Bologna. Testimonia all'impatto zero, Eleonora Brigliadori. Allora, benvenuti a Bologna, dove un piccolo nuovo seme nel mondo della pubblicità verrà seminato proprio oggi. Che cos'è Testimonia all'impatto zero? È un progetto che riesce a superare l'attrito di primo distacco per le piccole e medie imprese, che quando si affacciano al mondo economico spesso non hanno risorse sufficienti per poter investire nel mondo della pubblicità. Attraverso una nuova metodologia di rapporto tra Testimonia alle aziende, che crede nel futuro e che è un modo di progredire etico e morale, è possibile creare qualcosa che prima non c'era. L'immagine del colibri, che può fare cose che l'Aquila nemmeno immagina, è in sintesi come spiegare che un piccolo peso, una realtà operativa molto rapida, possa realizzare cose che quando invece un'azienda si confronta con delle grandi holding della pubblicità, per loro diventano proibitive. In pratica è come se la pubblicità avesse creato un piccolo tetto dove non piove più ai piccoli. Allora i piccoli spostati da T su zero, sotto il sole, sotto la realtà che fa incontrare gli uomini, possono riprendere le forze e mettere radici. A che punto siamo? Beh, siamo pronti. Il progetto nella mia testa era pronto più di dieci anni fa. In realtà, quando ancora c'erano risorse in esubero, non se ne valutava l'importanza. Oggi vedo che invece c'è un grande interesse, perché ci si rende conto che la verità è un valore. E un progetto come questo va verso la verità. E quindi crea un nuovo tipo di rapporto tra testimonial e prodotto che non può essere comprato. Per cui quando vedrete il marchio T su zero, saprete che c'è veramente qualcosa di interessante sotto. Per cui quando vedrete il marchio T su zero, saprete che c'è veramente qualcosa di più 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 di più. Per cui quando vedrete il marchio T su zero.